Ciao a tutti amici di iPhone Italia, oggi andremo a recensire delle skin per il nostro iPhone 4 o iPhone 4s prodotte da ID America e distribuite da coverstyle.it. Innanzitutto partiamo col dire che sono delle skin che andranno a ricoprire la parte posteriore del nostro dispositivo andando appunto a proteggere qualsiasi urto o graffio. Come potete vedere io ho messo il bumper e si può osservare che combacia alla perfezione. Ma andiamo subito a vedere la confezione, come è composta, cosa c'è al suo interno. Partiamo con questa che è un pochino da ragazza, apriamo e all'interno avremo la nostra skin con dei copri pulsante home, quindi del copri tasto home. In questo caso abbiamo 6 copri pulsante e poi la skin vera e propria. Andiamo a vedere invece adesso la fase di installazione. Io in questo caso ho già tolto il bumper e attraverso un adesivo, in questo caso si è incollato alla perfezione. Ok, quindi come se fosse un adesivo vero e proprio andiamo a rimuovere la skin precedente e andremo ad installare questa. all'interno ci sono anche le istruzioni per come applicarla alla perfezione. Sostanzialmente noi non dovremo fare altro che far combaciare soprattutto il foro della fotocamera. Quindi basterà poi dare, premere sul dispositivo e quindi come potete vedere si è incollato alla perfezione. Questa è la sua grafica, in questo caso abbiamo comunque una skin veramente molto morbida, molto soffice al tatto in modo tale che comunque non crei danni al nostro device. Qui abbiamo la fessura per la fotocamera che non andrà ad intaccare in nessun modo la nostra fotografia. Quindi, veramente un ottimo prodotto. Se volete abbellire il vostro nuovo iPhone, che dire, questo è un ottimo acquisto. Se volete regalarvelo per Natale o comunque volete consigliarlo a amici, questo è un ottimo prodotto. Andiamo a vedere invece poi il contenuto dell'altra scatola. Qui abbiamo, come vi dicevo prima, la guida per l'installazione e in più avremo all'interno anche una pellicola protettiva, oltre che allo stemma dell'ID America. Se vogliamo andiamo a pulire lo schermo nel nostro iPhone e anche qua attraverso le istruzioni andremo ad applicare la pellicola. Se la volete, se non la volete la lasciate tranquillamente nella confezione. Andiamo a vedere l'ultima, l'apriamo al volo. E questa qua è la seconda, molto carina, raffigurante un arcobaleno, una mela, in rilievo soprattutto, veramente, veramente bella. Quindi, ricapitolando, sono delle skin prodotte da ID America e distribuite da Coverstyle.it. Le troviamo sempre sul sito di Coverstyle a 14,95€. All'interno avremo ovviamente la skin, 6 copri tasto home e poi anche il proteggi schermo. In fondo al video vi lascerò poi il sito con il link da visitare. Un saluto, ciao a tutti.